Buongiorno, si mi prepara per cortesia la patente, la carta di circolazione e poi mi dice i motivi del suo spostamento e del suo viaggio. Maxi Posso di blocco della polizia stradale di Arezzo in A1 per verificare il rispetto delle misure anti-Covid-19. Tutte le automobili infatti sono state incanalate all'interno dell'area di servizio di Badia Alpino e controllate una ad una. Sono stati così controllati in tutto oltre 230 mezzi. Il dispositivo è scattato questa mattina alle 8 lungo l'autostrada del Sole tra Arezzo e Monte San Savino. La polizia stradale ha bloccato il tratto per circa 4 ore facendo convogliare tutto il traffico leggero all'interno dell'area di servizio Badia Alpino Ovest per poter verificare gli spostamenti. Non è obbligatorio portarsi la via, l'altro la compiliamo e la compila lei nel momento in cui viene fermata ad un controllo di polizia, carabinieri, delle forze di polizia, qualsiasi. 12 le pattuglie utilizzate, 232 invece le persone controllate. Nella maggior parte dei casi è risultato che si stavano spostando per comprovate esigenze lavorative o in alcuni casi per estrema urgenza dovuta a motivi di salute. Sto facendo questo per questo motivo. L'eventuale certificato di una clinica piuttosto di un datore di lavoro è un in più che non è richiesto comunque. Anche perché noi in base a questi documenti poi successivamente a Campione facciamo dei controlli incrociati per vedere se le dichiarazioni corrispondono al vero. Solamente due sono state le sanzioni amministrative contestate per spostamenti non giustificati. Adesso le autocertificazioni acquisite verranno verificate dalle forze dell'ordine. Vederci auguri!